Antonio questa mattina a Roma e ho saputo una notizia incredibile. Lei mi deve raccontare, anni 60... 62-63 Che faceva l'Aiso Grifo? Facevo i sportelli di Comune e l'Aiso Rivorta, uno dei primi segni. Quindi cofani e sportelli. Tessaraviano montanti, serature montate, andavano in verniciatura. Ma perché li portavano così già? Da Scocca, io sono stato tre anni a Torino da Bertone. A quell'epoca si facevano quelle macchine lì. Quindi stava a Torino? Sì. E come era? Che ricordi ha dell'Aiso Grifo? Che ricordi? I più belli, nel senso che io voglio tanto di imparare. Ma come erano fatti questi Aiso Grifo? Erano fatti a pezzi dovevi costruire i sportelli e i cofani. Mi faccia qualche esempio perché lei è una cosa... Allora, tutto allo sportello. Ma davano a sto montante qui, con le cerniere, con i spinotti. Li montavi, li accoppiavi con il sotto, con il sopra. L'interno, che la serratura si chiudeva con le gomme. Poi l'esterno, l'attaccavi, 4 mm. Com'erano le lamiere? Se lo ricorda com'è? Mi dica qualcosa di sempre sull'Aiso Grifo. Le lamiere erano come tessi, da un millimetro. Da? Un millimetro. Da un millimetro. Da un millimetro. Una volta che gli davi l'aria, queste lamiere venivano riportate. Quattro punte della puntatrice, si fermava. Ecco, questo è lo sportello. Fermava lo stesso pezzo qui. Questo qui, questo qui, erano i quattro pezzi. Mettevi le cerniere, montavi, poi saldavi questo. E' chiaro che si soprapponeva. L'aria era del quattro millimetro. Dovevi tagliare quattro, cinque.